Passetti, Rizzo che è fuori dai giochi della Rai, come interpreta le parole di Conte? Anche perché il Movimento 5 Stelle da sempre, da quando diciamo, dopo anche l'exploit, ma anche prima elettorale, dice no, basta con la lottizzazione, la Rai in mano ai partiti. È assolutamente mortificante per gli elettori del Movimento 5 Stelle questa posizione. Il Movimento 5 Stelle nasce, devo dire, anche non a torto su alcune considerazioni. Una di queste era appunto l'uso dei partiti, l'uso pubblico della televisione prodomo partiti. Ed era giusto perché servirebbe un senso critico, un pluralismo sulle idee, non tanto una lottizzazione, un canale a uno, un telegiornale a un altro. Adesso loro protestano perché sono stati esclusi. Cioè sta dicendo una cosa terribile, cioè è una biura rispetto alle proprie radici e alle proprie idee. E poi ha anche una dimostrazione di inefficacia. Caspita, avete 300 parlamentari, siete la forza più forte, non riuscite a combinare nulla. È un disastro. Però voglio aggiungere una cosa che va da quella di Fusani. È un vero disastro. Cioè, benissimo la biura, come dice Rizzo, diciamo di tutto questo.